Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, io sono Manomich, ma oggi siamo qui ritornati su Fortnite dopo l'aggiornamento che c'è stato martedì Ovviamente oggi è mercoledì quindi ve lo sto portando con un giorno in ritardo, vi chiedo scusa però purtroppo, purtroppo, devo dire la verità e ve lo dirò Sono un adolescente, ho scuola e un sacco di altre cose da fare quindi ho trovato solo adesso il tempo Ma dopo le mie inutili scuse ragazzi c'è stato, no c'è stato, c'è l'evento che termina tra l'altro tra 12 giorni quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo Ovvero l'evento dei ricercati, infatti ragazzi come potete anche leggere dal titolo c'è proprio una skin nel regalo Quella che vedete al centro dello schermo, questa skin può essere ricevuta gratuitamente completando soltanto delle semplici sfide È una skin rara, molto particolare, molto carina e ovviamente si ottiene completando degli incarichi Ovviamente come si fa per ottenerla? A parte che possiamo visualizzare gli incarichi, gli incarichi escono una volta al giorno Infatti ragazzi poi usciranno giovedì, venerdì, sabato e poi domenica Ovviamente ci sono un sacco di fughe, un sacco di missioni, queste sono tutte le sfide Io poi vi farò anche il video su come completare queste sfide Quindi dopo questo video mi metterò subito a registrare le sfide Restate attivi sul canale, se non siete ancora iscritti al canale lasciate un bel anche pollicione all'insù Iscrivetevi, attivate la campanella di notifiche per restare sempre aggiornati Grazie, grazie di cuore per sopportarmi Allora, comunque come potete vedere ci sono un sacco di punti che vengono segnati con la bomba Quella bomba, vi faccio vedere questa qua bianca E ovviamente una volta arrivato qui dobbiamo ottenere 4.000, 8.000, 24.000, 44.000 e infine 48.000 Sangue d'oro Che è la skin Allora, ci sono un sacco di cose da fare, tra cui le sfide Ovviamente queste sfide sono molto semplici perché praticamente è come le sfide di molto tempo fa dei ricercati Ad esempio c'era da eliminare un boss, vi dava la card e dovete aprire i cavo, un sacco di roba raga Tra cui c'è anche una cosa molto particolare perché infatti la skin come potete vedere tiene in mano un teschio Che questo teschio, voi dite, in questo mini pass non c'è C'è tra l'altro il piccone ovviamente super riciclato della skin Della skin asso, non me lo ricordo bene per bene Comunque, e anche ovviamente c'è anche questo super riciclato Dovrebbe essere lo shop se non sbaglio, non vorrei dire cavolate Comunque quel teschio che vedete è il backpack E ovviamente per ottenere quel backpack, aspettate raga vediamo se è nello shop Eccolo, eccolo qui, jolly, tra cui jolly, ecco infatti raga Super riciclato raga, si vede che forte, vabbè lasciamo perdere Comunque, amici miei, per ottenere il backpack, eccolo qui Arraffa i medaglioni del sangue freddo Ovviamente i medaglioni sono proprio questi I medaglioni, questi medaglioni dorati con un serpente Ovviamente per avere un medaglione bisogna completare un totale di 7 sfide Quindi le sfide sono queste raga, per ottenere solo un medaglione Ovviamente una volta aver ottenuto tutti i medaglioni Possiamo ottenere il teschio Che, vabbè, non è male, però ricorda moltissimo Ehm, come al solito, sempre super riciclato Del teschio di Mystique Cioè possiamo mettere questo che è pure più bello Comunque, a parte le cazzate ragazzi Ci sono delle sfide ricompense molto belle da ottenere Totalmente gratuite Quindi ragazzi, io vi consiglio di fare un salto E ottenere tutte queste sfide E ovviamente ragazzi, bisogna completare le sfide Ovviamente sto backpack pure super riciclato Comunque, mh, questa scrimata di caricamento è molto carina Tra cui anche il deltaplano Adesso vi faccio vedere tutte le sfide Ragazzi, e io vi saluto Io spero che questo video, mini video, vi sia stato utile Ovviamente ragazzi, buttatevi su Fortnite E completate queste sfide Perché c'è anche una skin gratuita Quindi perché no, andiamo a sbloccare Non è neanche così tanto difficile da avere E ragazzi, mi raccomando, attivi sul canale Adesso mi metterò a registrare di prepotenza Anche se non ci guadagno nulla i video tutorial Quindi ragazzi, se vi va, supportatemi con un bel like Per farmi sorridere Quindi ragazzi, io vi saluto E noi ci becchiamo alla prossima Con la vostra mano di quartiere come solo è tutto Tenetevi pronti con i video tutorial Che ora li caricherò tutti sul canale Con la vostra mano di quartiere come solo è tutto Bella